Villa Morosini Cappello si appresta a vedere completo un restyling atteso e promesso in campagna elettorale dall'amministrazione comunale, aperto l'antico arco della barchessa nord. È un tassello importante per la salvaguardia del nostro capitale culturale e soprattutto storico di Cartigliano. Finalmente grazie ad un contributo del Ministero della Cultura di 176 mila euro più 40 mila euro di mutuo riusciamo a sistemare la pavimentazione, abbiamo riaperto l'antico arco che va appunto su Viale Cappello e in più saranno anche ristrutturati tutti gli archi della barchessa nord.